Assessore Mario Cozzi, la 25esima edizione della Fiera d'Agricoltura ha portato tantissima gente e anche a conferma della tradizione e della grande attrattiva. Sì, siamo davvero molto soddisfatti, sarebbe inutile negarlo. Devo dire insomma che oltre alle aspettative sicuramente, soprattutto la domenica, un flusso inaspettato dalla mattina alle 9 fino alle 6 alle 20 e non posso che ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, perché nonostante le difficoltà, i flussi eccetera, tutto ha funzionato, tutti hanno fatto la loro parte, a cominciare dagli espositori che hanno addobbato in maniera adeguata i loro stand, all'educazione e al modo in cui i visitatori si sono posti nei confronti della fiera nonostante il grosso flusso e a tutti coloro, lo staff organizzativo in primis, a tutti i membri del comitato e alle organizzazioni come i vigili urbani, la protezione civile, l'associazione Carabinieri, la Teramo Ambiente che hanno svolto un lavoro eccezionale. E questo conferma che quando ci sono queste tipologie di manifestazioni il gioco di squadra è fondamentale, non si può da soli arrivare a questi risultati. Basti pensare che ieri alle ore 15.30 nello nuovo stadio si è giocata la partita San Nicolò Celano, quindi c'è da dire che già dalla notte e nella mattinata, presto, si era messa nelle condizioni che nello stadio si erano le condizioni di sicurezza per far sì che la partita si potesse giocare. Quindi c'è ormai un rapporto consolidato che funziona e i risultati si sono visti.